Il ministro ha detto addirittura che i sindaci dovrebbero dimettersi. Questo ritengo veramente un'affermazione vergognosa. Forse il ministro non sa cosa i sindaci ogni giorno devono affrontare e cosa devono fare per espletare al meglio il loro mandato. Non lo sa. La temperatura gelida non ha fermato questa mattina la protesta dei sindaci dei comuni di Abruzzo e Lazio contro il caro pedaggi, mentre le trattative tra Ministero dei Trasporti, Strada dei Parchi e Anas procedono a oltranza nel caldo delle stanze ministeriali per trovare la quadra per bloccare gli aumenti sino a marzo. I primi cittadini della provincia dell'Aquila di Teramo di Roma si sono dati appuntamento davanti al casello dell'Aquila Ovest, un presidio che richiama alla mente quello di un anno fa quando è cominciata la loro piccola rivoluzione contro l'anomalia del caro pedaggi. Da allora nulla o poco è cambiato. Un rincaro che ha radici lontane e su cui i sindaci chiedono di più. Rivedere il meccanismo alla radice dicendo basta a sospensioni di pochi mesi ragione per cui oggi hanno deciso di occupare simbolicamente il casello di l'Aquila Ovest. Ci fa un esempio di quello che vanno a pagare i cittadini percorrendo qualche tratta tra le più frequentate magari? Per i cittadini potrebbe tramutarsi in aumenti di 5, 6, 7 euro al giorno perché tratte Avezzano-Roma o Aielli-Roma aumenteranno così di 2 euro più o meno andata e 2 euro al ritorno quindi insomma qualcosa di pazzesco veramente. A Teramo che c'è un pendolarismo giornaliero è oggi praticamente la tariffa di 2,50 euro per forse 7 chilometri di autostrada quindi è davvero un salasso. Noi stiamo qui perché questa è una battaglia di civiltà per rivendicare quel diritto alla mobilità, la mobilità turistica, di lavoro e di studio. Nonostante il tavolo in corso al Ministero non c'è ancora un provvedimento per scongiurare una vera e propria stangata che avrebbe ricadute sui cittadini a partire dalla mezzanotte di oggi. Pochi brindisi di fine anno per loro, già pronti a organizzare nuove forme pacifiche di protesta nella capitale già a partire da domani. Un anno fa, diciamo così, quando siamo venuti qui a fare il presidio sono arrivate le mamme dei bambini che devono andare a Roma a fare le cure oncologiche per esempio che si vedono aggiungere al loro dolore, ai loro disagi, ai loro esborzi economici anche un pagamento di petaggio veramente insopportabile. Poi come si può fare per tornare indietro? Ci sono i margini? Sì, sicuramente ci sono i margini. Ci vuole un decreto e bisogna mettersi d'accordo sugli interessi. Sicuramente si può tornare indietro, però sarebbe comunque una beffa perché far partire gli aumenti e poi interromperli sarebbe un problema. Il nostro casello serve la stazione scistica di Campo Felice ma anche tutta quell'area che è poi un'area selvaggia molto vasta tra il Riatino e l'Aquilano. Quindi questa politica dei pedaggi ci crea un problema enorme anche per tutto il potenziale sviluppo che stiamo mettendo in campo. Il costo del pedaggio incide sul bilancio delle imprese di autotrasporto per un valore di circa il 10%, quindi parlare di aumentare, tra l'altro non sappiamo nemmeno in quale misura il pedaggio, si deve andare a incidere in maniera pesante sui bilanci delle nostre attività.